Altro incontro con Giovanni Matera, imprenditore, titolare della Matera Arredamenti, nonché esperto di marketing e autore di pubblicazioni e di corsi di formazione. Oggi analizziamo uno degli altri capitoli, degli altri passaggi della cassetta degli attrezzi, la sua pubblicazione e è importante, stiamo cercando di vedere come si può raggiungere il successo, stiamo cercando di comprendere quali sono i fattori del successo e illuminante è il titolo di questo capitolo, molto dipende da come ragioni. Il successo di un'azienda o di una persona dipende in gran parte dal modo di pensare e da come ragiona. In azienda o nella vita non contano tanto gli incentivi statali, i capannoni, i soldi, la politica, certo, contano, però quello che è importante è il come ragioni. Sì, questo è importante, anche in altre occasioni abbiamo già detto questo. Per esempio, faccio un esempio molto semplice, quante volte si è assistita a delle scene penose, per dire la verità, quali leggi stanno alla Regione Pugli, cosa stanno finanziando in questo momento? Allora stanno finanziando i capannoni, allora facciamo la pratica per i capannoni, anche se tu non è il tuo sogno, non è la tua passione, ma fai la pratica perché in quel momento ci stanno i soldi. Abbiamo visto cosa succede dopo, abbiamo visto di fallire tutte queste aziende che ragionano in questa maniera. Quindi il modo di ragionare si intende che hai un sogno, hai una passione per qualche cosa, allora devi perseguire quello che è il tuo sogno, non perché là ci stanno i soldi, ma lo stesso lo studente che sceglie una materia perché gli hanno detto che là c'è più occupazione, che fine farà questo studente? La maggior parte dei casi non arrivano nemmeno a completare il corso di studio, perché non ha scelto in funzione di un suo sogno, di una sua passione, ma ha scelto in funzione perché gli hanno detto che là sarà più facile trovare lavoro. Ma se io non ho passione per quel lavoro, come farò a portarlo avanti in periodi di studi? Grazie per la visione!